Da come ti poni? Hai un'opzione B oltre alla modella? Sì, anche c'ho l'opzione B. Te la dico così almeno ti senti più tranquillo e dormi stanotte. No, amore, ti faccio perconoscerti. Ho fatto anche la cattolica. Sorpresone, economia e gestione aziendale. Oddio! Ora mi reputi una persona più intelligente perché oltre a fare la modella studio anche. Amore, io ti sto facendo però delle domande in maniera carina. Eh? Ti sto facendo delle domande in maniera carina. E dai, anche tu però devi accettare l'ironia, non puoi essere. No, ho capito però, cioè, stai tranquilla. Anch'io sono lavorato in economia. No, perché hai tante domande. No, vabbè, amore, quante domande ti ho fatto quando sei entrata? Tante, a te, milioni. Perché ce le facciamo per conoscerci. Non lo vedere come un attacco. Non è una cosa, anche perché non è che ti ho chiesto robe chissà che, cosa fai, cosa vuoi fare. Non è che ti ho chiesto quanti soldi c'hai in banca di chi sei figlia e dove te vuoi comprare casa. Però mo vado a lavare i piatti e chiamerò del culo. Grazie. 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 Grazie.